Buongiorno a tutti, di nuovo riprendiamo con quest'ultimo appuntamento dalla sala streaming l'ultima presentazione sul nostro exchange Darwinex. Come potete vedere anche dalla presentazione faremo un breve scursus giusto per far capire e trasmettere il messaggio di che cosa si tratta Darwinex. Come potete leggere nella naturale evoluzione del trading, io sono Giacomo Buzoni, ho di fianco a me Andrea Di Marco, siamo Brand Ambassador di Darwinex per il mercato italiano. Che cos'è Darwinex? Darwinex è molto più di un broker, un asset management, un broker, un exchange e un trading talent scout, un ricercatore di talenti del trading in questo senso. Il messaggio che vogliamo trasmettere è molto chiaro e veloce e sintetico in questo senso, quello che vuol fare Darwinex è pagare i trader, cosa che fino ad oggi nel mondo del brokeraggio non succedeva, quindi un sistema inverso rispetto a quello conosciuto fino ad oggi. Chi siamo? Siamo una fintech con doppia regolamentazione, FCA e CNMV, regolamentazione spagnola per quanto riguarda il territorio UE e ovviamente autorizzazione da parte della Consob come intermediari senza succursale. Dal 2014 siamo autorizzati ad operare nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority, come ben vi dicevo, dalla FCA e offriamo un'assicurazione gratuita in questo senso sui depositi fino a 5 milioni di sterline, senza entrare nei dettagli anche dei dati, in eccesso rispetto a quella sottoscritta dall'Oise of London. A partire dal 2022 siamo anche autorizzati dal regolatore spagnolo, dalla CNMV che si chiama, a operare in Italia e nel resto della comunità europea. Siamo inoltre autorizzati dalla Consob ad operare in Italia, come dicevo prima, come impresa di investimento senza succursale. I depositi dei nostri clienti per quanto riguarda la regolamentazione europea sono protetti e coperti da FogaIn, il fondo di garanzia degli investimenti, il quale offre una copertura fino a 100 mila euro per ogni titolare del conto. Darwin è in numeri, parliamo quindi dell'anno di fondazione di Darwin, è il 2012, più di 65 dipendenti, ad oggi siamo poco più di 70, siamo presenti in 75 paesi intorno al mondo con clienti attivi, più di 3 mila traders su cui poter investire, adesso vedremo anche nel dettaglio di cosa si tratta, e più di 4 milioni di euro di commissioni pagate ai traders. 100 milioni di dollari sono gli asset totali che ha sotto gestione come asset management DarwinX e il capitale assegnato ai trader, che poi entraremo anche nel dettaglio di che cosa significa, sono ad oggi più o meno attorno ai 10 milioni di euro e 800 strumenti finanziari, oltre 800 strumenti finanziari su cui poter operare. Quello che mosse all'inizio, poco più di quasi 11 anni fa, alla creazione di DarwinX è il concetto che esprimeva Javier Colon, che era uno dei fratelli soci fondatori, che diceva che come aspirante trader professionista che stava operando, aveva raggiunto un punto in cui non poteva più crescere senza capitali di terzi, sappiamo tutti che è molto difficile vivere del trading a meno che non abbiamo capitali su cui poter investire importanti, e questa è stata la motivazione alla base della creazione di DarwinX. I due soci fondatori, Javier Colon e Juan Colon che è presente fra l'altro qui con noi, senza entrare nei dettagli di quello che hanno fatto, hanno una grande esperienza professionale nel settore finanziario. La nostra missione e visione qual è? L'ecosistema DarwinX, che come vedevamo all'inizio è non solo un broker, è anche un broker, mette in contatto i traders e gli investitori. I traders operano sul nostro universo di strumenti e sono money managers, quindi gestori di patrimonio, e gli investitori, quello che fanno fondamentalmente, cercano investimenti alternativi per diversificare il loro portafoglio. Che cosa vogliamo da parte di DarwinX? A tutti voi trader, quello che vogliamo è che abbiate successo e che tutto ciò che facciamo ruota attorno a questa convinzione. Quindi cerchiamo il successo, da cui anche il nome DarwinX, da Charles Darwin, quindi l'evoluzione, selezione naturale dei trader, sistema meritocratico che premia i trader di successo. I nostri prodotti e servizi sono progettati per aiutare i trader a trasformarsi in gestori, facendo crescere il loro patrimonio in gestione con capitali esterni. Gli investitori, invece, hanno a disposizione una potente arma di diversificazione investendo in strategie di trading verificate e non correlate ai mercati tradizionali. Nessun altro ecosistema ad oggi offre maggiori opportunità per la vostra evoluzione e il vostro successo di traders, tra cui abbiamo anche qualcuno che già ci conosce anche da diversi anni. Dal punto di vista dei traders, quindi di chi opera, che cosa offre DarwinX? Quello che offre DarwinX è un sistema che aiuta a raggiungere il passo successivo, che come potete vedere anche nella presentazione è rappresentato da una scala formata da 5 gradini, fondamentalmente. Il primo è DarwinX Zero, DarwinX Broker, che è questo nuovo servizio, fra l'altro, che stiamo anche lanciando in questi giorni, che consente di operare il nostro universo di strumenti. Una volta fatto il primo passaggio, si trasforma la strategia del trader in un indice, che ha lo stesso andamento e quotazione di un ETF, invertibile. Invertibile vuol dire che la propria strategia di un trader può essere invertita da parte di investitori esterni, quindi la possibilità di essere invertiti su se stessi, in un certo senso. E il terzo passaggio, optare a capitale assegnato mensilmente, quindi capitale proprio di DarwinX, della società, fino a 10 milioni di euro per ogni singolo trader. Poi entriamo anche nel merito di come si arriva a questo obiettivo. Poi il quarto passaggio, captare capitale di investitori esterni, quindi allocazione di capitale di investitori esterni, sotto la nostra licenza, quindi con copertura legale, che è una questione molto importante da questo punto di vista. E in ultima istanza, attirare investitori con la propria marca e con i propri prezzi, quindi possiamo definirla in una white label, in questo senso. DarwinX per gli investitori, dal punto di chi investe, quindi non il trader che opera, però chi vuole investire su chi opera, che cosa consentiamo noi? Con il nostro exchange gli investitori hanno accesso diretto a più di 3.000 strategie, che poi sono con continua evoluzione, perché trader di successo entrano continuamente nel nostro ecosistema, con track record certificati, quindi con uno storico di operatività certificato da noi. Quali sono i vantaggi per l'investitore? Uno, la diversificazione del proprio portafoglio. Due, la liquidità immediata. Tre, rischio noto e controllato, quindi con un rischio che sappiamo quale è. Ok, esattamente, quindi come spesso succede, magari dal punto di vista dell'investitore ci viene chiesto, sì ma se il trader si sveglia la mattina col piede sinistro anziché con quello destro e perde la metà del proprio patrimonio, lo perdo anch'io? No, no, perché il rischio è controllato da noi. Il quarto vantaggio è l'intermediazione istituzionale che forniamo ai trader, agli investitori, e l'analisi di qualità in ultima istanza che ovviamente garantisce che i vostri investimenti siano sempre con la qualità necessaria che noi forniamo a voi. Dopodiché entriamo nel merito proprio di DarwinX Zero, questo nuovo prodotto che stiamo per lanciare a breve. Che cos'è DarwinX Zero? C'è una definizione molto veloce che esprime chiaramente il concetto. È un'alternativa priva di rischi per raccogliere capitali all'interno di DarwinX a fronte di un canone mensile. Come potete leggere, quindi il trading su misura. Cosa siamo? Siamo dal punto di vista del broker, un broker ECN, la piattaforma disponibile che consente di operare sia strumenti OTC che anche strumenti quotati su mercati regolamentati, quindi asset e strumenti disponibili dal Forex a indici, a materie prime, azioni americane, a ETF americani. Come opera un trader che vuole operare, come certifica il proprio track record un trader che vuole operare con noi? Importa, e c'è la possibilità di importare il proprio track record. È possibile importare il proprio track record da metatrader generato in un altro broker, quindi non è neanche necessario che questo storico sia stato fatto con noi, su DarwinX e continuare a consolidare il trading con il nostro servizio. Le piattaforme che offremmo ad oggi, che poi sono in continua evoluzione rispetto a quelle che potete vedere, Metatrader 4 e 5 e anche altre che poi elencheremo anche successivamente, tra cui anche Trader Workstation di Interactive Broker, il conto professional, tier personalizzati livello mensile, assistenza VIP, possibilità di essere ricategorizzato in qualsiasi momento, e leva finanziaria ampliata, quindi la possibilità anche di aumentare la propria leva. Facciamo trading con multi-asset, quindi con stocks, con azioni, con ETF e con futures. A oggi abbiamo azioni, asset e strumenti disponibili, più di 800 azioni americane, più di 60 contratti futures quotati, più di 200 ETF, e le piattaforme con integrazione con Interactive Broker, ad oggi TradingView, Trader Workstation, Desktop, Mobile, API, parliamo sempre di Interactive Brokers, Ninja Trader, Multicharts, Zorri B-Bridge, B-Gateway e altre varie, per poi fornire noi un servizio come Prime Broker. Arrivato a questo punto, Andrea passo la parola a te, affinché tu possa continuare la presentazione, scusate un attimo. Dunque, fatto questo primo discorso, che come vedete inizialmente si basa sostanzialmente su un messaggio molto chiaro, il messaggio qual è? Che siamo alla ricerca di traders di talento, Quindi questo è il fattore principale, è la cosa che vogliamo veramente sottolineare. Perché? Perché sostanzialmente noi stiamo cambiando un po', o comunque vogliamo cambiare un po' il modello di broker tradizionale. Io personalmente, nelle mie precedenti esperienze, ho sempre avuto modo di parlare con clienti, e alla fine la discussione, diciamo, e l'argomento più importante era relativo alle commissioni, relativo comunque sia all'esecuzione, che sicuramente sono tutti aspetti molto importanti. Però, nell'ambito di DarwinX, noi portiamo questo tipo di conversazione, questo tipo di argomenti, a un livello superiore. Nel senso, noi vogliamo traders di talento. Perché? Perché vogliamo potenziare il talento di questi traders. Come lo facciamo? Lo facciamo creando uno strumento, un indice invertibile, appunto, che si chiama Darwin. Il Darwin sostanzialmente è un prodotto, un nuovo prodotto, scambiato sulla nostra piattaforma, che dà l'opportunità, da una parte al trader, di potenziare il proprio trading. Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente poter aumentare le proprie fonti di reddito, mentre, dall'altra parte, dà l'opportunità agli investors di accedere a degli investimenti alternativi. Vorrei focalizzarmi soprattutto sulla parte del trader. Perché? Perché quando si inizia l'attività di trading, sostanzialmente, sono tutti i costi. Il costo delle commissioni, il costo dei dati, il costo, magari, della piattaforma, il costo della licenza, il costo del tempo. Quindi, il capitale proprio psicologico, comunque, anche i primi traders, diciamo, alle prime armi, sostanzialmente, quello che fanno è bruciare conti o comunque sia cercare di raggiungere già determinate performance che poi magari portano a un livello di, per così dire, un po' di scoraggiamento, o comunque sia a un pessimismo che magari ci fa abbandonare un po' l'idea dell'attività di trading. E con DarwinX, grazie al Darwin, grazie alla nostra tecnologia, riusciamo un po' a potenziare il trader, quindi l'attività del trader, trasformando appunto tutto quello che è il suo conto, quindi il suo conto di trading classico, in un indice, un indice invertibile, in cui diamo l'opportunità appunto a tutti gli investors di accedere e quindi di sottoscriverlo come se fossero sostanzialmente un acquisto di, il classico acquisto di azioni, il classico acquisto di ETF. La quotazione di questo indice va sempre poi in funzione non tanto, non della domanda e dell'offerta che c'è su quell'indice, ma va solo ed esclusivamente in linea con il livello di performance sul conto sottostante. Quindi il trader con noi ha la possibilità di accedere all'assegnazione di capitale ogni mese, quindi ogni mese c'è un programma che si chiama Darwinia in cui c'è la possibilità appunto di effettuare la migliore performance, le migliori performance del mese e grazie in virtù a questa classifica che viene prodotta attraverso tutti i Darwin riusciamo poi ad assegnare migliori trader un capitale a partire dai a partire il capitale massimo sono 500.000 euro per sei mesi e poi ovviamente a scendere. Perché possiamo fare questo? Possiamo fare questo perché io faccio sempre un po' un confronto. Immaginatevi che stiamo guardando il campionato di Formula 1 e utilizziamo tutti i piloti hanno la stessa macchina quindi tutti i piloti hanno le stesse condizioni quindi in quel caso lì vince il miglior pilota sostanzialmente, il miglior pilota che è tecnicamente più bravo. Darwin X è un po' la stessa cosa insomma. È un campionato di Formula 1 in cui diamo a tutti la stessa macchina e effettivamente poi il miglior trader e chi effettua la migliore performance riesce poi ad accedere all'assegnazione di capitale da parte di Darwinia. Quindi questo è un primo punto che serve poi al trader per capire ok, diciamo io parto con diciamo lo svantaggio nel conto trading classico di pagare, di avere già dei costi tra commissioni, sottoscrizione e quant'altro però qui in Darwin X riesco poi a a parte la mia attività di trading normale riesco a partecipare a questo programma per poi accedere appunto a queste assegnazioni. Il secondo poi punto fondamentale che questa secondo me è la slide anche più importante più sicuramente più significativa è quella di attrarre capitali terzi. Con Darwin X essendo una piattaforma internazionale riusciamo a appunto a mettere in contatto quelli che sono tutti coloro che hanno desiderio di diversificare il proprio portafoglio tutti coloro che hanno voglia di effettuare un investimento alternativo e li mettiamo in contatto appunto con i migliori traders che sono ovviamente iscritti alla nostra piattaforma. Quindi il trader sotto questo punto di vista raccogliendo andando un po' raccogliendo appunto questi capitali ha la possibilità di incassare un 15% di performance fee che viene generato appunto dall'allocazione di di questi capitali. Ed è una cosa effettivamente che comunque sia poche praticamente nessuna piattaforma offre perché molte piattaforme magari hanno sistemi di trading dove bisogna pagare una licenza dove non si conosce il rischio dove comunque sia ci possono essere problemi poi anche nella natura proprio dell'investimento stesso perché magari in quel caso lì l'investitore non è informato correttamente poi magari ci possono essere altre soluzioni alternative che comunque sia non danno nessun tipo di soluzione dal punto di vista della protezione del capitale da parte degli investitori. Questo discorso è molto importante perché avere la fiducia comunque sia degli investitori quindi un trader che ha la fiducia degli investitori in realtà permette di creare per il trader stesso un business di lungo periodo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io sono bravo se io sono capace di fare trading a parte i guadagni quindi a parte il capital gain che io posso realizzare sul mio conto di trading ho la possibilità uno di ottimizzare le mie performance comprando il mio stesso Darwin quindi io posso investire su me stesso due posso partecipare al programma di assegnazione di capitali da parte di da parte di Darwinia e quindi sono capitali che la società mette a disposizione al trader e tre ho la possibilità di attrarre investitori terzi e quindi poi di generare quelle che sono le performance fee della mia attività di trading sottostante quindi l'idea che abbiamo noi che è l'idea principale quello che vogliamo proprio trasmettere se sei un trader che sei alla ricerca di di maggiore opzioni opzioni economiche opzioni economiche magari sei sotto capitalizzato magari non hai la possibilità di di accedere ai ai veri mercati del capitale magari non hai la possibilità di di dimostrare il tuo il tuo valore qui in DarwinX si che puoi gestire e puoi puoi raggiungere tutti questi tuoi obiettivi perché perché alla fine io sono stato 20 anni fa quando insomma iniziai a capire nel mondo del trading e purtroppo era un mondo ancora molto molto opaco e molto molto difficile da da interpretare c'erano molte poche molte poche piattaforme DarwinX vi fornisce le basi per intraprendere la vostra attività di di trading in una maniera regolamentata e professionale quindi siete tutelati dal punto di vista sia della proprietà intellettuale sia dal punto di vista delle regolamentazioni che ci sono che ci sono in Europa ma soprattutto poi avete la certezza che il vostro trading viene potenziato con tutto quello che abbiamo visto fino adesso quindi il discorso principale che noi facciamo con tutti i traders ve lo voglio far vedere è proprio arrivare a questi questi numeri qui che sono tra l'altro ancora numeri un po' da da aggiornare perché sono numeri del nostro del nostro del nostro miglior trader ok quindi questo signore qui è un trader finlandese che opera con DarwinX da da oltre otto anni e che in questo in questo anno qui del 2000 del 2023 ha raggiunto un picco di capitale di asset in gestione di circa 20 milioni di euro con una media vicina ai 15 milioni di euro questo cosa vuol dire vuol dire che questo signore qui che tranquillamente fa il suo trading ogni giorno ogni settimana tutte le volte che lui desidera ha creato il suo indice su cui io Andrea o Giacomo o chiunque di voi può investire e partecipare alle performance della sua della sua della sua attività e della sua strategia dal punto di vista del del trader lui ottimizza la sua attività quindi ottimizza tutto tutto quello che l'attività di trading può può fornire perché nel 2023 questo signore qui si è portato a casa oltre 600k di commissioni in performance fee più ha un'assegnazione da parte di Darwinia tra l'altro oggi è l'ultimo giorno di marzo ed è in seconda posizione per il mese di marzo quindi riceverà nei prossimi sei mesi 460.000 euro di capitale assegnato da parte di Darwinix e in più ha in questo momento in live circa 1.100 investors quindi 1.100 persone che hanno investito quindi che hanno comprato nel che hanno comprato il suo il suo indice per finalizzare perché vedo che siamo un po' fuori 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 orario e il messaggio quindi che noi qui di Darwinix vogliamo lasciarvi è proprio questo massima trasparenza massima massima semplicità nel 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 rapporto con voi massima chiarezza quello che vogliamo è appunto che voi abbiate successo con il vostro trading e lo potete fare appunto con il nostro sistema Darwinix quindi con la nostra piattaforma Darwinix e con il Darwin io direi che siamo arrivati all'ora insomma e io vi ringrazio ovviamente per per essere insomma per essere stati qui con noi ringrazio anche Pietro di Lorenzo che è lì ciao Pietro grazie mille per per averci ospitato in questa anteprima e ovviamente a tutti voi che ci state seguendo in streaming ciao a tutti e vi aspetto su Darwinix.com grazie a tutti